Buongiorno e benvenuti a tutti. Come vedete abbiamo rappresentato il bullismo in una scuola perché molti fatti avvengono proprio in essa. E lo scopo è riuscire a trovare tutti i cartelli con le risposte. Parlane con qualcuno perché bisogna sempre spallarne. Poi c'è un bellissimo parcheggio dove c'è una bruttissima scena di bullismo con il bullo e i suoi due amici. E la povera vittima con su scritto. A volte serve solo una parola al posto di un pugno e siamo già a due cartelli. Ma passiamo subito all'interno. Come vedete è pieno di cuori, bellissimi, fatti dalla nostra Lucrezia Tucci, la nostra bellissima compagna. E vogliono dare un messaggio particolare, cioè non facciamo la guerra ma dobbiamo volerci bene l'uno dagli altri. Ed è pieno di villager che vogliono rappresentare gli insegnanti e gli studenti. Ma entriamo in una stanza. Come vedete c'è scritto combattiamo per eliminarlo. Il bullismo ovviamente. E in ognuna di queste classi, per esempio nella stanza di professore che abbiamo appena visto, o se no andiamo in una classe. Bene, ben arredata la nostra Cecilia, Romeo. E il professore vuole dare una bellissima lezione. Cioè, non lasciamo da solo chi viene bullizzato, perché è vero. Ma passiamo subito all'esterno. Vediamo una bellissima scritta, con su scritto no al bullismo, fatta dalla nostra Cefiscarla. Bravissima, bellissima. E un cuore, fatto da tutte e tre. E ha un significato molto bello. Cioè, potrai bullizzarmi quanto vuoi, ma non potrai mai togliermi la gioia che ho dentro il mio cuore. E c'è scritto, bullizzare una persona non tende forte, ma debole, perché è vero. E infine, abbiamo una bellissima scritta, in color verde lime, con su scritto, fermiamolo adesso, il bullismo, perché il bullismo è una cosa molto brutta. Lo scopo, soprattutto di questo mondo, di questo gioco, è anche fare capire alle persone che il bullismo deve essere fermato prima o poi, in qualche modo. Perché se fosse fatto a noi stessi, non sarebbe una cosa bella. Quindi, fermiamolo prima che si espalda.